Allora, perché devo gustare 2kk? In che senso devo gustare 2kk? No, vabbè, ora non l'ha trovato nessuno, è normale Ebbè, è normale, quando puoi più grande le sa queste cose, è ovvio ragazzi È il mondo del lavoro, se fosse così, ecco perché dico, è strano Bravo Theobooster, santo Theobooster Bravo, bravo Dopo entrare la messa di Wario, non so se è il prossimo, ci buttiamo un'occhiata News dei pacchi accessi, 0, 0, 0, 0, 0 Nessuna novità ancora, nessuna novità, dobbiamo aspettare un attimo Magari, ho stato bisogno tra il club e tre pacchetti e cinque tre in più, che ne pensi, sono regalati? Tu prendi e porta a casa, arrivo subito, Tommy, arrivo subito, bello mio Apriamo sti picchi e vengo da te Quindi devi si trova divertente stamattina così nel club, vabbè Meglio di niente, zi, che te frega Che te frega, meglio di niente Tanto sono pacchetti comunque che ti hanno giftato alla fine, tu non hai fatto nulla Magari sono tipo dei rimborsi Lauro, sì, si va in condivisione Business, business Business Vabbè, il buon zico Pup Va bene, va bene, va bene Quest'anno riempite il gioco di pacche volosie Ma è promo a voi Ma mi metteranno anche i pacchetti da cinquanta euro, vedrai Metteranno i pacchetti direttamente da cinquo Io penso che li metteranno sicuramente I pacchetti da cinquanta euro Certo, bu, è normale Ma come nessuno ti costringe di andare a comprare un determinato paio di scarpe Che tu vuoi andare a vendere nel tuo negozio Non vai a comprare un tipo di pasta che magari costa di più Ma per comprare la pasta un po' più economica La spesa la scegli, la fai dove ti pare piace la spesa È normale, se uno vuole risparmiare, si fa risparmiare No, è normale E qua esistono tanti negozi È normalissimo Ci sta Ma lui mi ha fatto partire Penti Zappuono È normale, Dio, ci sta, è ovvio Io non scioppo e non faccio comprare Vuol dire che giochi in maniera divertente E fai quello che riesci a fare e via Scelta saggia, ci sta Ci sta Gioca e basta, certo, certo Old school praticamente Zecco, old school Ma per questo dico Sono cose che uno che magari è più grandicello Le sa, no? È normale È il mondo del lavoro, ragazzi È il mondo che viene dopo la scuola Cioè, è normale, ragazzi Sono cose basilari Ma allora, ragazzi, non è male, secondo me Ma caccesi scammati Io l'ho detto già da qualche giorno Sto dicendo, ragazzi A me sembra strano che te ne hanno dati, ancora Può essere pure che li danno, eh Non è detto Magari li danno Però Vediamo, ragazzi Vediamo Al momento, ragazzi Sono passati quanti Sei giorni da leak Da quel leaketto famoso Io non l'ho visto ancora, eh, ragazzi Purtroppo non l'ho ancora visto Quindi vi dico, ragazzi Occhio, perché Magari non li danno, eh, ragazzi Non è detto che Che vengano troppati, boys Shopping con i shop Allora con i sacchi di paponatà Eh, ma è normale Ma come ogni azienda Ci mancherebbe Ci mancherebbe altro È normalissimo Normalissimo Altrimenti chiudo Semplicemente quello Eh, ci può fare niente Rio Ma rivediamo da squadra Ma abbiamo tolto tutti quanti Abbiamo tolto tutti quanti Fai bene a giocare, Zeck Ti diverti Bravo, bravo Bravo, sì Come Grealish Quello col tiraggirone è malissimo Ci può stare tutta la vita, ragazzi È un buon player È un ottimo, ottimo player Non si può dire assolutamente nulla Il grado Zeck Signori nazionale Grazie per l'aggindare Anche le sigarette, per esempio Sono qualcosa che fa male Eh, però È normale La gente le go Anzi Costano ogni anno sempre di più Costano, Rio È normale Però Ci sono i consumatori Che lì, appunto, le comprano E se le fumano È normale, sì Anche se comunque fa male Quindi faccio ballo, certo Ciccio, grazie per il follow Ho bevuto gentilissimo Vediamo che troviamo Dai, vediamo che troviamo Ho avverso il giallo invernale È da fare No, niente di che Niente di che Eh, sì Puoi andare Puoi andare quando vuoi Broderonti Fammi sapere Allora, lì ci sta in botto, raga Uh Fighissimo Didierry Bello Per Natale Nessun pacchetto regalato Nope Nope Nope, purtroppo, ragazzi Niente di niente Niente di niente, ragazzi Allora Kimone Aversa e Winter Wild Com'è? Non è male Eh, Fosburg Tedesco Rauch Vabbè Eh, sono pure Tembele Ah, io ti dico Tutta la vita Sono Aldovic Secondo me Secondo me sono tutta la vita Eh, Didierry è carino Ah, ci sta Didierry Ci sta Portoghese Attenzione Eh, vabbè Vedi là, vedi Olè Vai Allora, io direi Pacchetto da 50.000 crediti Questo è il primissimo, eh, ragazzi Vado, speriamo bene, Andre Guarda, ci potrebbe anche stare, comunque Eh, c'è, non è che voglio dire Rialzo si dad Attenzione Spagnolo Eh, Remiro addirittura Il grande Remiro, ragazzi 84 rated Vabbè, 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 vabbè Ah, Jay Ciao, bello Come stai? Tutto bene? Questo qua è il link per subabit con Amazon Prime Se volete, sì Qua è il linketto, ragazzi Allora Però mi devi invitare, Dunno Invitami che la guardiamo, se vuoi Invitami, però Insieme devi invitare KingGiome95 Allora, qua abbiamo un party bag Devo dare i punti anche al buon Tommy, comunque Assolutamente, ragazzi Inglese, eh DC No Quella dell'Arsenal è questa Fisso Allora Fisso Eh, Williamson Eh, ma lo sai che noi ci divertiamo, Ale, comunque Ah, Jay Con il tredisimo mese Grazie mille Per i tredici mesi Un bacio, bello mio In privato Allora, questo qui è un pacchetto campagna Non dice No, devi aprire l'altro Dove aprire Ma becchi i doppioni, sì Allora Eh, ma becchi i doppioni Quello è il problema C'è il rischio che becchi un po' di doppioni Sì C'è il rischio che becchi un po' di doppioni Purtroppo sì Eh, da dove, Andri? Da quale pacchetto? Dal garantito, dici te Beh, sì, ci può stare Comunque dai, non è male Non è male Qualcun altro pacchetto, ragazzi, in chat? Fate vedere l'inglese Attaccante Harry Kane Harry Kane è tanta roba, ragazzi Sì, puoi invitarmi, puoi invitarmi Marco, puoi invitarmi Harry Kane 91, signori 91 rated Volee? Vai Boys, benvenuti Mi ricordo che se fate la sub gratis con Amazon Prime Avete il gruppo dove potete fare 400-500k a settimana Seguendo i consigli dei nostri trader Vi seguiranno, vi guideranno Tutto questo gratis Senza spendere un euro con Amazon Prime Se volete Mi raccomando Notando sto pacchetto Lo daranno? Probabilmente sì Però dovete guardare su Instagram Grazie Ale Allora, ancora più valenza la sub Allora Su Instagram c'è il primo link E il secondo link Anche sì Se vuoi Ti l'ho messo in là per entrare nel gruppo sub Comunque dicevo Su Instagram Nelle stories Su Insta Avete 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 anche Un giorno prima La notizia del pacchetto regalo Se lo danno Ok? Sempre se lo danno alla fine Quindi mi raccomando ragazzi Veramente Ale Ammazza Meglio cantonare pure tu Io Ti dico se skilli Meglio cantonare E meglio cantonare Egenberg Oh questa qui non l'ho mai vista in game Ma ora Non lavorano DG E poi ci abbiamo anche i pacchetti Guardate il messaggio fissato in alto da King Bravo Teo Bravissimo Se volete vedere Se volete sapere quando arriverà il pacchetto gratis Il messaggio è fissato Mi raccomando Ricordatevi ragazzi Ricordatevi Ma per me potrebbe arrivare anche Qualcosina sì ragazzi Ci sta ragazzi Ci sta La gazzetta Müller Attenzione Pick for Dunk Anche Sommer Mi dima Mi dima Mi dima Il grande Mi dima Signori Nazionale Se hai bisogno chiedi pure Andrea Ma poi mandami anche la squadra Quando vuoi Anche adesso Farti i problemi Quando vuoi potete Mandami anche la squadra Akimi è questo Che pacchetti Che pacchetti Come vieni a sciopare Quella da 45 euro Sono quelli a migliori Secondo me Però Secondo me Se puoi evitare sciopare Evita Secondo me One more party bag Yes Bravetele il cappello in game No Non ce l'ha in game Ragazzi Non ce l'ha in game Napoli Allora Aspettiamo ragazzi Aspettiamo Allora Marco invitami quando vuoi Invitami Ci buttiamo subito un'occhiata Ci buttiamo subito un'occhiata Boys Assolutamente sì Certo Puoi evitami quando vuoi Marco Assolutamente Assolutamente sì Marco invitami Invitami Vieni vieni Ci buttiamo un'occhiata Ah Grad Immagina una salta di testa Che ripole il cappello Bellissimo Allora Ti immagini Sai che risate Sai che risate Marco se Vabbè Tanto tu lo sai Se vuoi non C'è problema Quando volete A totale e completa disposizione Mi raccomando No vabbè Più che altro Se cos'è Quel balotelli La cosa buona È che c'è le 5 stelle skills Quella è la cosa buona Di balotelli Ragazzi Le 5 skill Fanno troppo la differenza Ti cambiano Completamente il player Capito Ti cambiano Completamente il modo Di giocare Capito Di un giocatore Perché con le skill Ragazzi Vola Credetemi Vola E Ho sbloccato Averse Come Come ti sembra Ok Io toglierei No Io farei balda Posso dire Lorenzo Ma Cristiano Molto molto meglio Fidatevi 1000x Ragazzi Secondo me Molto meglio Dabriz Si sono contattato Dal pick knockout Non è contattato più Win or lose Potrebbe starci Ci sta Vabbè L'hanno messo così Per il meme Ma no Almeno per rendere Utilizzabile Altrimenti 4-4 Poi è anche turco Nella Turchia Cioè Il campionato È il linkabile Se ci pensi Almeno così Uno dice Vabbè Facciamo uno sforzo Dai Dice Vabbè Facciamo uno sforzo E linkiamo Altrimenti Non se lo sarebbe Pensato nessuno Praticamente Cioè Si figura No Chi è che se lo pensavo Quel gioco Dai Diciamoci la verità Se lo sarebbe pensato Nessuno 0000 Allora No Pazzesco Allora Ok Allora Guarda la domanda Guarda Eh ci sta Ragazzi Ma immagino Se c'è La rente Il cappello in game È impossibile Andrea È impossibile È impossibile Non Figuratevi Eh Vabbè Di Marco Il grande Di Marco Ci sta Ragazzi Di Marco Un bemba Se li buttiamo Tranquillamente Facile Magari Magari Luca Abbiamo 4 pacchetto Ozzicoliardici Signori Qui ragazzi E Attaccante Damelo buono No Questo è Aller Questo si fa volare Tranquillamente Nel builder È 83 Mi pare Giusto Sì 83 Ci sta Ci sta Ragazzi No Ancora Non sapevo Nulla Allora Aspetta Nada 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 Ragazzi Per quanto riguarda I pacchetti gratis Per me Arrivano Settimana Settimana Prossima A questo punto Sì ragazzi Trovete il pieno Sì Poi lo proveremo Magari Ne metto Uno in più Napoli Potrebbero Sì Grazie Buon Natale Pelo mio Grandissimo Grandissimo Ci trovano Solo pacchetti Anto Sarà King Che ne pensi Del piro Che buon giocatore Peccato che non c'è il finesse Il bug è bannabile No perché abbiamo visto prima Che comunque ti obbligano a farlo Capito Quindi non può essere bannabile Ragazzi Ma è pena fare Alex Peccato che non ha il finesse Ragazzi Il vero Il vero problema Quello Che non c'è il finesse Perché per il resto Comunque ci sta Non è un brutto giocatore Anzi Com'è Baggio Un cacciatore ci può stare Non è male quel Baggio Un cacciatore ci può stare Tutta la vita Assolutamente Raga 101% Raga 101% Ho Pennuccello Oppure Fernando Torres No forse vorrei fare Fernando Farei Fernando Torres Secondo me Baggio ragazzi Non è male Ma non ha tiro Non ha tiro Dovete Dovete Una carta di cansello È carina La nuova carta di cansello Oppure è bella bella carina Ragazzi Ci sta Andre Ci sta Mi piace pure a me Vero Inglese Attaccante Signori Eccolo Harry Kane Ma lo teneggi lì È forte Ballo Forte Mezzica Ti sta piacendo Ballo Sì Immagino Antox Grazie a te Per quello che fate Per i ragazzi Soprattutto Antox Attaccante Arte Per i ragazzi Diagina Influenza Soprattutto Arte Pagina Arte Grazie a tutti